Allora, guardate bambini, questo è un brevissimo riassunto di quello che ci siamo detti più o meno questa mattina durante la DAV, ok? Per coloro che hanno avuto problemi di connessione, ok? Allora, ripartiamo dal titolo, quindi i mali del mondo. Allora, quali sono i mali del mondo, ok? Allora, i mali del mondo possono essere la guerra, per esempio, la povertà, la maleducazione, ok? Il non rispetto degli altri, ok? Questi sono i mali del mondo, quelli che praticamente, voi già sapete, sono usciti dal vaso di Pandora, ok? Allora, andiamo un po' a leggere. Prometeo era il più intelligente di tutti i titani e un giorno entrò nell'Olimpo per rubare agli dèi il fuoco e donarlo agli uomini. Allora, abbiamo detto che le parole che sono evidenziate nel vostro testo sono riportate, la loro spiegazione, il loro significato, è riportato in fondo al libro, ok? In quel box azzurro, mi pare, ok? Andate pure a rivedere i titani, che cosa sono, anzi, chi sono? Sono dei personaggi mitologici, quindi che non esistono nella realtà, sono dei personaggi di fantasia, ok? Che gli scrittori, soprattutto dei miti, ok? E anche delle leggende, si sono inventati, ok? I titani sono caratterizzati dalla loro forza. E quindi vi ho detto che una similitudine che si può usare quando magari, non so, vi propongo un testo in cui voi descrivete un personaggio che è molto forte, potrebbe essere il vostro babbo, per esempio. Allora, invece di dire il mio babbo è molto forte, se voi scriveste il mio babbo è forte come un titano, beh, c'è differenza, vi rendete conto perché non tutti sanno che i titani sono proprio, si ricordano, sono caratterizzati dalla loro forza, ok? Quindi dire il mio papà è forte come un titano, beh, fa la differenza direi, eh? E poi invece siamo andati a vedere l'Olimpo, che cos'è? L'Olimpo è un monte della Grecia sul quale, nella cui sommità abitavano gli dèi, ok? Quindi gli dèi bambini non sono ovviamente dei personaggi reali, ok? Perché nelle leggende e nei miti, anche se sono due cose diverse, vi ho detto, la leggenda ha delle caratteristiche, il mito ne ha delle altre, però per noi, adesso che stiamo cominciando, diciamo che più o meno sono la stessa cosa. E che cosa sono? Sono delle storie, dei racconti molto antichi, ma veramente tanto tanto antichi, che gli uomini si inventavano per spiegarsi delle cose che altrimenti con la ragione non potevano, perché non avevano, bambini, le conoscenze che abbiamo adesso, le conoscenze scientifiche, ok? Anche grazie per esempio, le conoscenze storiche, ok? Pensate soltanto, non lo so, alla scoperta del fuoco di cui si parla qua, ok? Noi adesso sappiamo, grazie agli storici, come probabilmente gli uomini hanno scoperto il fuoco, ma tanto tanto tempo fa, quando ancora non c'erano queste conoscenze, gli uomini sentivano la necessità di, si facevano delle domande, ma il fuoco, come è arrivato sulla terra, chi ha inventato, no inventato, chi ha scoperto il fuoco? E siccome non sapevano darsi delle risposte, si sono inventati praticamente una storia, e quindi i miti e le leggende, che più o meno si assomigliano, sono dei racconti di fantasia, ok? Sono dei racconti fantastici, non certo realistici, ok? È un testo narrativo, perché racconta, ma è un narrativo fantastico, ok? Allora, andiamo un pochino avanti, quindi Prometeo, che è il personaggio, diciamo è chi fa tutte queste azioni, Prometeo entrò nell'Olimpo, vedete? Quindi Prometeo rubò il fuoco dal carro del sole e insegnò agli uomini come usarlo per cucinare e riscaldarsi. Quindi, come vi ho appena detto, in realtà non è che il fuoco l'ha donato Prometeo agli uomini, ripeto, noi ormai grazie agli storici sappiamo come gli uomini hanno scoperto il fuoco, però questo è un geno, un mito, ok? E quindi si sono inventati gli uomini questa storia per in qualche modo giustificare la presenza del fuoco sulla terra, ok? Quando Zeus guardò sulla terra e vide lo scintillio dei fuochi, andò su tutte le furie e decise di vendicarsi, ok? Come si vendicò? Mandò sulla terra una fanciulla di nome Pandora, che aveva la bellezza di una dea, ma che avrebbe portato molte disgrazie al genere umano, eccoli i mali del mondo, eh? Quindi Zeus manda sulla terra Pandora, che sì, molto bella, ma che, diciamo, sarebbe stata lei la causa di tutti i mali che affliggono il genere umano, cioè gli uomini, ok? Andiamo avanti. Zeus invitò la giovane Pandora, scusate, inviò la giovane Pandora dal fratello di Prometeo, che si chiamava Epimeteo. Quindi, attenzione, sono in rima questi due nomi, Prometeo e Epimeteo, e sono due fratelli, ok? Quindi Epimeteo è il fratello di Prometeo. Quindi, Zeus manda Pandora da Epimeteo, e siccome prima diceva che questa Pandora aveva la bellezza di una dea, eh, cosa sarà successo? Epimeteo si innamora di lei e la sposa, ok? Allora, Pandora aveva portato molti doni. Allora, dunque, mi avevo detto che, dunque questo l'ho detto solo nella A, credo, nella B non era venuto fuori il discorso, però, eh, cosa succede? Nella tradizione, adesso ormai non succede, credo che non succeda quasi più, però, quando per esempio io ero piccola, bambini, quando sono nata, i miei parenti, quindi i miei nonni, i miei zii, ma anche la mia mamma, ha cominciato a regalarmi, anche se io ero molto piccola, e logicamente non è che potevo utilizzare questi regali, perché? Perché mi regalavano ogni tanto, in occasione del compleanno, oppure anche senza nessun riferimento ad una festa particolare, mi regalavano chi un paio di lenzuola, magari tutte ricamate, col pizzo, oppure la nonna un giorno mi regalava, che ne so, gli asciugamani per il bagno, ma belli, bianchi, di spugna, veramente molto, proprio di qualità, anche questi ricamati, e qualcuno mi regalava invece magari gli asciugamani per la cucina, gli strofinacci, e mia mamma tutti questi regali che ricevevo di questa tipologia, non certamente i giochi, ok? Questi regali me li metteva da parte, aveva, e ce l'ho ancora, un grande baule, bellissimo, li metteva tutti lì dentro, e mi diceva quando ti sposerai, questi saranno tuoi, e li porterai nella nuova casa. Ecco perché, bambini, succedeva proprio così fino a qualche anno fa. Adesso, ripeto, non so se succede più, però si usava a fare dei regali alle donne, diciamo, che si dovevano sposare, ok? E quindi queste donne, questa come Pandora in questo caso, quando si sarebbe sposata, avrebbe portato questi doni. Ed eccoli, Pandora aveva portato molti doni. Questi doni glielo aveva dati Zeus però a lei, ok? E Zeus, fra i doni che aveva dato a Pandora, in questo grande baule, me lo immagino, c'era un vaso di argilla, questo che vedete come nell'immagine, completamente chiuso. Perché chiuso? Perché quello che c'era dentro non doveva assolutamente uscire. Ma Zeus diede ordine a Pandora di non aprirlo. Vedete? Pandora aveva portato molti doni, fra cui, quindi molti doni, avrà avuto le luzzuole, anche lei, gli asciugamani, ok? E tra questi doni c'era un vaso d'argilla, completamente chiuso, che aveva ordine di non aprire. Ma secondo voi, visto che Zeus si voleva vendicare, perché avrà scelto proprio Pandora? Solo per la sua bellezza? Certo che no! Zeus sapeva che Pandora era molto curiosa e quindi era certo che prima o poi Pandora avrebbe aperto quel vaso d'argilla e così sarebbe uscito tutto il male del mondo, perché Zeus, se voleva vendicare, aveva messo in questo vaso tutti i possibili mali del mondo, ok? Infatti, vedete cosa c'è scritto? Proprio questo la incuriosiva, il fatto che non lo poteva aprire, e si domandava ma cosa ci sarà? Ma cosa avrà messo Zeus qui dentro? Ma perché non lo posso aprire? Quindi era curiosissima e un giorno Pandora non riuscì più a trattenersi e lo aprì. Ed ecco che Zeus ebbe la sua vendetta. Dal vaso uscirono tutti i mali e le cose brutte di cui il mondo oggi è ancora pieno. Ok? Vedete? I miti, come vi ho detto prima, o le leggende, cercano di spiegare qualcosa che altrimenti con la ragione non è possibile. No? Se io vi chiedessi perché oggi il mondo è pieno di mali e di cose brutte? Certo, oggi lo sappiamo perché? Perché? Perché sono gli uomini che si comportano male, che fanno succedere le guerre, sono gli uomini che creano la povertà in certi paesi del mondo come l'Africa, perché ognuno si vuole arricchire, pensa solo per sé, è egoista e non pensa ad aiutare gli altri. E quindi succedono tutte queste cose brutte nel mondo. Quindi, chi ha scritto questa leggenda, questo mito, voleva cercare di spiegare agli uomini perché nel mondo ci sono tutti questi mali e l'ha spiegato appunto con il vaso di Pandora, ok? Noi però sappiamo che in realtà non è così. Va bene bambini? Ok, io spero più o meno di aver detto, toccato un po' tutto quello che ci siamo detti, però questo penso che sia sufficiente, ok? Buon pomeriggio bambini! Ciao ciao!